Un'applicazione teleprompter per leggere gli script dal telefono mentre registriamo i video, un potentissimo scrittore di articoli di blog automatico con un occhio particolare all'ottimizzazione per i motori di ricerca, un server per lanciare le intelligenze artificiali di generazione immagini più potenti del momento, un generatore di interi podcast e audiolibri senza muovere un dito e infine un gestore di appuntamenti con videoconferenze integrate. Cosa volete di più dalla vita? Se non questi cinque tool che sono in offerta in questo momento. Pensate che li trovate su AppSumo proprio adesso. Che cos'è AppSumo? È una di quelle piattaforme che mettono a disposizione strumenti che generalmente sono in vendita in formato abbonamento. Beh, li mette in offerta che li pagate una volta sola, offerta lifetime direbbero quelli bravi, e li usate per sempre. Diciamoci la verità, ormai è un casino questi abbonamenti perché dobbiamo pagare abbonamenti per ogni singola cosa, anche per andare in bagno dobbiamo pagare l'abbonamento. E allora uno dice, beh, sfruttiamo alcune volte queste offerte che ci permettono di acquistare uno strumento e di poterlo utilizzare per sempre. Le offerte che vi faccio vedere in questo video, tra l'altro, sono davvero molto interessanti. Io sono convinto che alcuni di voi, alcune di voi, se le prendono tutte e cinque, perché davvero sono uno strumento uno più interessante dell'altro. Oltretutto vi dico che con AppSumo avete anche la prova, per cui soddisfatti o rimborsati, quindi se voi vi prendete una di queste applicazioni e poi non vi piace, potete tranquillamente richiedere il rimborso. E io direi, che altro? Se non andiamo a vedere queste offerte che spaccano, le trovate tutte linkate nella descrizione. Attenzione perché alcune sono in scadenza velocissima, quindi nel momento in cui avrete visto il video, facilmente saranno attive ancora per un giorno, due al massimo, quindi andate a dare un'occhiata, così almeno se vi interessano ve le prendete e vi siete tolti il pensiero. Andiamo a scoprire la prima applicazione. Il primo dei cinque tool si chiama Easy Speak, che forse, forse è il mio preferito di tutti e cinque e apprezzate il fatto che ve lo metto per primo, perché non mi piacciono quei giochetti tipo così rimanete fino alla fine del video. Se vi piace questo tool andatevelo a guardare perché è davvero molto molto interessante, soprattutto per chi è o vuole fare il content creator, perché sostanzialmente Easy Speak mette insieme un teleprompter e un'applicazione per registrare video con il telefono. Infatti è un'applicazione per telefono che ci permette di generare uno script, oppure naturalmente di inserire uno script che abbiamo già scritto e poi di farcelo leggere, ma guardandoci nel frattempo nello schermo del telefono, così da verificare e controllare l'inquadratura. Vi faccio vedere in funzione questa applicazione come funziona per l'appunto. Questa è l'interfaccia, noi clicchiamo su new script, in questo caso gli chiediamo di generarlo con l'intelligenza artificiale e gli diciamo che abbiamo già l'argomento, quindi clicchiamo su I already have a topic e in questo caso un topic che potrebbe essere adatto alla mia persona, ad esempio potrebbe essere estrema bellezza, direi assolutamente adatto al sottoscritto. Estrema bellezza, gli diciamo che vogliamo realizzare lo script in italiano e quindi generiamo lo script. Gli diamo qualche istante per generare lo script, vedrete che non ci vorrà molto e poi torniamo. Ah no, ha già fatto, ha già fatto e allora cosa vogliamo fare? Possiamo verificare questo script e nel momento in cui lo script ci piace e siamo pronti e pronte per registrare, clicchiamo sull'icona lì sotto. Facciamolo. Ed ecco fatto, l'applicazione per registrare. Quello che possiamo fare dal menu in basso è intanto modificare anche la risoluzione del video registrato che possiamo mettere in full hd e poi dal menu in basso modificare la velocità dello script. Per la mia parlata più o meno un 2.5x dovrebbe essere la velocità giusta. Poi possiamo comunque, vedete, scorrere lo script anche col ditino naturalmente. Poi possiamo modificare la luminosità, possiamo eventualmente zoomare l'inquadratura, possiamo allargare, vedete, la vista dello script. Di solito è meglio tenerlo un pochino verso l'alto perché così sembra di più che guardiamo la fotocamera che è posizionata in alto. Possiamo modificare la dimensione del font oppure il colore della scritta stessa che adesso ho messo in un colore assolutamente non idoneo. Perfetto, lasciamo la bianca che va bene così. Nel momento in cui siamo pronti, siamo pronte per registrare il nostro video, naturalmente possiamo anche cambiare la fotocamera, mettere quella posteriore, ma non avrebbe senso farlo. Clicchiamo sul tasto record. Conto alla rovescia e... Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente speciale, l'estrema bellezza. Avete mai guardato un tramonto e vi siete sentiti rapiti dalla sua magnificenza? O forse avete incontrato una persona la cui anima brillava di una luce unica e magari quella persona si chiamava Andrea Ciraulo? Questi sono solo alcuni esempi di come la bellezza possa manifestarsi nell'estrema sua forma. Ma sapete una cosa? La vera bellezza risiede anche dentro di voi. Sì, proprio in voi! E nel vostro sorriso autentico, nei vostri gesti gentili, nel vostro cuore generoso. Aprite gli occhi e il cuore a tutto ciò che vi circonda e scoprirete un universo di estrema bellezza che vi aspetta ogni giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Avrete notato che, man mano che lo script scorreva, io magari a volte me lo sistemavo col ditino, naturalmente se voi riuscirete a impostare la velocità perfetta per il vostro utilizzo non avrete bisogno di farlo. Quando avrete terminato di registrare potete premere il tasto stop. Va da sé che se io dovesse impappinarmi posso tranquillamente tornare indietro, riprendere dal punto in cui mi sono impappinato e poi eventualmente andare a togliere le papere in fase di montaggio. Una volta terminato, cliccate su stop. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente speciale, estrema bellezza. Avete mai guardato un tramonto e vi siete sentiti rapiti dalla sua magnificenza? O forse avete incontrato una persona la cui anima brillava di una luce unica e magari quella persona si chiamava Andrea Scirano. Torniamo quindi indietro e adesso abbiamo lo script già pronto per poterlo utilizzare eventualmente per una nuova registrazione. Andiamo a vedere adesso quali sono i prezzi, i costi attuali, le offerte di EasySpeak. Eccoli qua, in questo momento noi abbiamo EasySpeak in vendita a 5 dollari al mese e noi possiamo acquistare invece a 29 dollari per sempre con generazioni illimitate di tutte le sue funzionalità. Quindi sostanzialmente dopo i primi sei mesi siamo andati a ammortizzare la spesa e a quel punto avremo l'applicazione gratis forever. E poi abbiamo Quick Creator che è sostanzialmente uno scrittore di blog automatizzato e non solo, uno scrittore di blog molto specializzato nell'aspetto SEO, quindi nell'ottimizzazione per il motore di ricerca. Devo dirvi che effettivamente anche confrontandolo con altri strumenti che mi è capitato di provare per questo utilizzo, Quick Creator funziona davvero molto molto bene. È molto interessante perché ci guida proprio in un processo di creazione dell'articolo o degli articoli che è molto efficace e che è molto efficace anche per strutturare un articolo in maniera solida lato ottimizzazione e ottimizzazione motore di ricerca. Andiamo a vedere come funziona. Sostanzialmente noi possiamo creare un nuovo articolo di blog. Naturalmente nelle impostazioni abbiamo già indicato che tipo di blog abbiamo, come funziona, quali sono gli obiettivi eccetera eccetera eccetera. Il fatto è che noi possiamo creare un nuovo articolo e guardate già la parte interessante che noi possiamo dirgli che tipo, cioè che obiettivo ha l'articolo che stiamo realizzando. Vogliamo posizionarci per una parola chiave, vogliamo espandere un argomento, promuovere un prodotto, ma ancora vogliamo creare un elenco, un tutorial, quindi un come fare. Vogliamo confrontare diversi articoli per esempio, diversi prodotti, vogliamo spiegare delle cose o articolo analitico invece, non so che cosa sia, credo che sia un errore della traduzione. Ipotizziamo ad esempio di voler fare un articolo, beh rimaniamo sul semplice, scrittura basata sulle parole chiave e andiamo a generare, vedete, il nostro articolo facendoci guidare dalla procedura di Quick Creator. Iniziamo a scrivere, qui indichiamo quali parole chiave vogliamo, su quali parole chiave vogliamo posizionarci, ad esempio facciamo giardinaggio che è lo stesso tema che ho utilizzato per fare i vari test, così manteniamo una coerenza all'interno di questo blog e gli diciamo guarda, vatti a prendere cinque pagine, cioè cercale su Google e vatti a prendere le pagine che sono già posizionate su questo argomento, cioè non so se voi avete capito, ma questo strumento si va già a leggere gli articoli meglio posizionati in modo da replicarne le caratteristiche più rilevanti, che è una cosa che fanno tutti naturalmente in questo ambito, è solo che prima si faceva manina, la facevano le persone, adesso la fa l'intelligenza artificiale e qui il punto è voglio rimanere indietro o voglio rimanere al passo e non ci sono altre alternative. Generiamo quindi le idee, lui ci metterà un attimo, vedete che sta andando a cercare su Google gli articoli, adesso sta cercando disperatamente di trovare l'ispirazione, lasciamogli il tempo di disperarsi e poi torniamo. Ed ecco qua, si è disperato e ha trovato già delle, ci ha dato delle idee, cioè lui ci sta dicendo, vuoi scrivere un articolo di tipo tips, quindi consigli per il giardinaggio, un articolo di tipo review, attrezzi per il giardinaggio, why, quindi benefici, guides, corsi online, definition, cosa significa il giardinaggio, cioè guardate quanti idee ci sta dando, cioè questo strumento ci guida nella generazione degli articoli per il nostro blog in una maniera incredibile, cioè è davvero molto efficace, che vi dico, che vi dico, ma pensate anche a utilizzarlo per gli script del nostro canale YouTube. Voi la escludereste questa opportunità? Possiamo anche inserire noi la nostra idea e poi possiamo aggiungere delle ulteriori richieste barra informazioni. Accettiamo l'idea, consigli per il giardinaggio e generiamo il titolo. Vedete il processo? Che non è molto diverso dal processo umano che vi suggerirei di seguire ad esempio per il vostro canale YouTube o per il vostro blog? Cioè capiamo un attimo qual è l'obiettivo, proviamo a ragionare sul format che vogliamo dare. Una volta che abbiamo capito obiettivo del contenuto e format, definiamo il titolo. Una volta che avremo definito il titolo, definiremo la scaletta e infine lo script vero e proprio o il contenuto se non lo abbiamo scriptato. E infatti guardate un po', lui adesso ci genera una serie di titoli tra i quali possiamo scegliere quello che noi preferiamo. Ad esempio, questa mi ha già triggerato, perché io voglio assolutamente consigli per un giardino a bassa manutenzione, perché il mio pollice verde è diciamo una delle cose più carenti sulla faccia della terra e di conseguenza se possiamo gestire il nostro giardino con poca manutenzione ne sono assolutamente contento. Quindi seleziono questo titolo e genero un contorno che credo che sia, maledette traduzioni, credo che sia una scaletta di massima del nostro articolo. Ci metterà qualche istante e poi torniamo. Ed eccolo qui, il nostro contorno è stato realizzato, contorno che tecnicamente credo che sia l'outline, si dice, quindi lo schema di base. Schema di base per gli esperti di SEO che vedete che comprende già i vari livelli di titolo, quindi titoli dall'H2, H3, H4 e così via, andando verso il basso. Il concetto, se non siete esperti o esperte SEO, che vi serve mantenere è che sta creando una struttura molto solida per la generazione poi dell'articolo finale. Vedete? Queste sono tutte le sezioni all'interno delle quali abbiamo anche l'introduzione e le conclusioni. Noi naturalmente possiamo modificare, vedete, la posizione di tutte queste sezioni così come possiamo aggiungerne oppure possiamo rimuoverle. Cioè noi possiamo in ognuno di questi passaggi modificare il risultato finale in base alle nostre esigenze. E quindi clicchiamo sull'ultimo tasto che è quello per l'ottimizzazione. Cioè lui addirittura ci genera in automatico i link interni del nostro blog, che io adesso ho disattivato perché non ne abbiamo, i link esterni, eventuali collegamenti specifici e ancora fatti e prove che, non so cosa sia, dati di supporto addirittura, lo togliamo perché vedete che servono ulteriori minuti per la generazione, un'immagine di copertina e le immagini sotto ogni header H2 che lui va automaticamente a cercare dalle librerie gratuite. Quindi da tutti quei servizi che offrono immagini utilizzabili gratuitamente. Anche la sezione vedi anche, però per farlo dobbiamo collegare il nostro sito web. E una volta che abbiamo fatto tutto generiamo il nostro articolo finale. Ci vorrà qualche istante e poi torno. Ah, ha già fatto. Ah no, lo sta generando. Ecco qua, vedete? adesso lui sta scrivendo il nostro articolo. Vi lascio qualche istante se volete leggerlo. Devo dirvi che la scrittura è molto buona. Non so quale modello di intelligenza artificiale utilizzi avrei potuto controllare. Controllate voi magari. Vedete che lui sta scrivendo in base struttura che noi gli abbiamo dato. Lasciamolo finire e poi ritorno. Et voilà. Ed ecco fatto. Il nostro articolo è stato generato. Ma guardate che bello. Allora ve lo faccio scorrere e mi fermo per farvi mettere in pausa il video se volete leggerlo. Mettete pure in pausa, eh? Non lo leggiamo adesso. Vedete come le immagini sono anche in linea col contenuto. E l'articolo è bello lungo, eh? Cioè se avete un blog, secondo me questo è lo strumento definitivo. Vedete? possiamo naturalmente adesso effettuare delle ulteriori modifiche. Ad esempio possiamo personalizzare questo articolo anche volendo con, ehm, insomma una scrittura più personale, più umana nel caso. Possiamo scrivere, iniziare a scrivere un altro post oppure possiamo tornare alla lista di tutti i post. Che adesso secondo me è vuota. Ah, ecco perché sono ancora in bozza quelli che ho realizzato. Non li abbiamo ancora effettivamente pubblicati. Direi che andiamo a vedere adesso quali sono i prezzi. Ah no, ma guardate, guardate, questa ve la devo far vedere. Io ho già pubblicato l'articolo. Cioè io posso pubblicare gli articoli che ho generato e questi sono già pubblici. Sono già pubblici anche senza avere un sito web. Cioè con l'indirizzo sull'indirizzo di Quick Creator che è nel dominio mylandingpages.co. Ma naturalmente io posso collegarli al mio sito web vero e proprio. Io me li ritrovo già pubblicati sul mio stramaledetto sito web. Guardate che belli. Cioè questa roba è stata generata in automatico. Abbiamo sulla sinistra i link alle varie sezioni. Abbiamo sulla destra il contenuto, devo dire, bellino. I rimandi sono al mio blog, tra virgolette. Guardate che bello. Cioè praticamente io genero un blog automatico da zero senza muovere un dito. Mamma mia. Andiamo a vedere i prezzi va. Ed eccola qui l'offerta. Molto molto interessante anche in questo caso perché abbiamo un costo di 39 dollari al mese. 39 dollari al mese. E noi invece praticamente spendiamo 49 dollari e ce l'abbiamo per sempre. Più o meno è la stessa cosa. Diciamo che questo limite del tier 1 è il numero di articoli che si possono generare al mese che è solo 10. E infatti io credo che andrei sul tier 2 perché ce ne dà almeno 30. Vedete? E andando avanti vedete che il costo diventa 79 dollari al mese e 130 dollari al mese. Cioè noi praticamente col tier 2 li spendiamo una singola volta sti dollari benedetti. E tier 3 abbiamo 150 articoli. Ecco. Lo so che è un investimento però anche la valutazione del tier numero 3 che è vero che è costoso però si spende una volta sola e abbiamo 150 articoli al mese. Vuol dire che noi possiamo buttare fuori quanti 3 articoli no 5 articoli al giorno. Secondo me diventa davvero molto interessante. Mentre qui ne abbiamo 30 di articoli quindi uno al giorno sostanzialmente. Beh fate voi le vostre valutazioni. Devo dirvi che a partire dal primo livello comunque i costi sono davvero molto molto interessanti. E adesso super nerd dell'intelligenza artificiale soprattutto di quell'intelligenza artificiale che genera immagini. Beh aprite bene le orecchie perché vi parlo di Mimic PC che sostanzialmente che cosa fa? Prende tutti quei generatori di immagini che sono disponibili oggi sulla piazza quelli open source e quelli che le persone potrebbero installarsi sul proprio computer e li installa in automatico per noi su un server online e li installa sul cloud in modo che possiamo utilizzarli. I vantaggi sono sostanzialmente due. Da un lato ci risparmia l'installazione di questi strumenti che è molto complicata. Io stesso che pure me li sto studiacchiando beh non sarei ad oggi in grado di installarli sul mio computer. Seconda cosa ci permette di averli a disposizione online quindi non dipenderanno dalla potenza del nostro computer, non ci richiederanno di tenere il computer acceso, li potremmo usare da qualsiasi pc. Per esempio uno dei più famosi generatori di immagini oggi si chiama Stable Diffusion e noi possiamo incorporare Stable Diffusion all'interno di questo strumento. Vi faccio vedere a grandi linee come funziona. Vedete che noi possiamo generare una nuova applicazione si dice. Ad esempio in questo caso noi potremmo prendere questo auto 11111 web UI che sostanzialmente è, vedete, un client, un'interfaccia per utilizzare Stable Diffusion. Lo installiamo, vedete, andando a definire le impostazioni. In questo momento noi sappiamo che questo server ci costerebbe circa 50 centesimi di euro per ogni ora di utilizzo. Noi abbiamo in base poi al livello che scegliamo tramite Absumo dei bonus mensili da utilizzare e vedete che abbiamo anche un monte ore da utilizzare a disposizione. In questo caso io ho il livello minimo e ho già delle ore e dei bonus a disposizione e quindi possiamo creare il server. Io non ho bisogno di farlo perché ho già creato, vedete, un paio di server di test. Quindi mi basta aprire il server che ho già creato. In questo caso dovrebbe già andare, quindi non credo che ci vorrà molto per aprirlo, altrimenti vi potrebbe richiedere magari di aspettare un paio di minuti perché sta proprio generando l'applicazione stessa. Ah, in questo caso no, vedete che lo sta comunque avviando e ci chiede di aspettare tra i 30 secondi e i due minuti perché perché sia avviato. Secondo me io l'ho appena riavviato cliccando su Operate. Probabilmente potevo risparmiarmi questo passaggio. In ogni caso diamogli il tempo di effettuarlo e poi ripartiamo. Ed eccolo qui, il nostro server è stato generato. Guardate quante impostazioni abbiamo per la generazione delle nostre immagini. Forse, forse ve lo dovrei fare un tutorialino su Stable Diffusion, vero? Magari dovrei invitare qualcuno che ne sa un po' più di me perché io stesso vi confesso che non so utilizzare molto bene questo strumento ma credo che oggi sia davvero fondamentale. Quindi magari per imparare io stesso magari invitiamo un bell'ospite che è in grado di usarlo bene, che sa come si utilizza e ce lo facciamo spiegare per bene. Il concetto è guardate quante cose possiamo modificare rispetto alla generazione delle nostre immagini. Vedete che ci sono decine e decine di configurazioni che noi possiamo inserire all'interno di questa interfaccia. Vi lascio guardare anche qui quante cose abbiamo. Ipotizziamo adesso di voler generare un'immagine molto semplice, per esempio a ninja hiding. Vedete che lui mi dà già dei suggerimenti oltretutto. Hiding in the woods. e vedete che lui mi dice forse piuttosto che woods è meglio utilizzare forest. Accettiamo il suggerimento e direi basta che ci fermiamo qua e gli chiediamo di generare questa immagine. In questo momento gli ho chiesto di generarla in risoluzione 512x512 pixel per cui quadrata ed ecco che lui sta generando l'immagine. E vedete che l'immagine in formato diciamo così di tipo icona è stata generata e devo dire che è anche molto 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 carino, piuttosto cartunesco, un po' fumettoso, molto bellino. Andiamo a vedere qual è l'offerta attiva per questo strumento. sostanzialmente noi lo paghiamo a ore MyMic PC, lo paghiamo 50 centesimi per ogni ora di utilizzo ma non di utilizzo vero e proprio cioè in cui il server rimane online. Non so se avete notato che il server rimane online per mezz'ora a meno che non cambiamo le impostazioni ogni volta che lo avviamo. Noi possiamo con 49 dollari avere 10 dollari di credito ogni mese per sempre e 20 ore di utilizzo ogni mese per sempre. Secondo me potrebbe essere un buon punto di partenza ma devo dire molto più conveniente passare ai piani successivi che ci offrono invece 20 dollari al mese o ancora 35 dollari al mese e 70 ore di utilizzo prendendo più coupon. In ogni caso magari se ci serve soltanto per esplorare un po' per imparare questi strumenti o per realizzare le cover, le miniature dei nostri video beh sicuramente già il livello di base, il tier di base è più che sufficiente. LaunchPod è un generatore automatico di podcast, audio libri e tutti i contenuti pensabili audio. È un generatore automatico che fa utilizzo, non c'è neanche bisogno che ve lo dica, dell'intelligenza artificiale e la cosa interessante è che è in grado di realizzare il vostro podcast da zero, proprio dall'inizio fino alla fine. Andiamo a vedere come funziona. Quello che dobbiamo fare è creare il nostro progetto. In questo caso io voglio generare un vero e proprio podcast, quindi creo il podcast, gli do un nome, lo chiamiamo per esempio Orto e Giardino perché mi sento in vena di giardinaggio che è proprio la cosa più lontana dalla mia persona esistente al mondo. in questo podcast troverai informazioni su come lasciare deperire il tuo giardino, così almeno è anche più in linea con le mie vere skill. Intanto devo impostare l'audio in modo che voi lo sentiate, secondo me potrebbe essere una buona idea. Ecco fatto. Indichiamo la lingua del nostro progetto, quindi italiano che era lì sopra. Eccolo qua. Indichiamo la tipologia podcast e quindi ve lo faccio vedere. Creiamo il progetto. Guardate, abbiamo già i link, vedete, a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Guardate che roba interessante. Non abbiamo ancora episodi. Clicchiamo su Add First Episode e direi che generiamo lo script con l'intelligenza artificiale, anche perché generare io uno script su come si cura il giardino direi che non sono proprio la persona più idonea. Vedete? Qui possiamo dare una serie di informazioni, per esempio il nome dell'episodio, che potrebbe essere il tuo primo giardino. Possiamo eventualmente dare delle ulteriori specifiche? Proviamoci, vediamo se è in grado di recepirle. In questo episodio Francesca piega ad Andrea come evitare che il suo giardino muoia senza possibilità di ritorno. Andrea è molto imbranato nella gestione del giardino. Vediamo se è in grado di recepire questo script. Gli diamo una durata di massima dell'episodio, gli diamo una lingua dell'episodio, che sarà italiano, e gli diamo il tono. Il tono potrebbe essere conversazionale, direi che va benissimo. Quindi indichiamo i nomi degli host, Francesca, cioè dei conduttori, e Andrea, ed eventualmente anche di una persona che intervista o di un intervistato, ma noi vogliamo far conversare soltanto i due host. Pensate che potremmo generare anche un'intervista. Una volta che abbiamo fatto, andiamo su next step, prossimo passaggio. Adesso generiamo i capitoli, cioè le sezioni principali di questo episodio. e vedete che una volta che le abbiamo generate, possiamo eventualmente effettuare alcune modifiche. Francesca introduce l'argomento del giardinaggio spiegando ad Andrea l'importanza di prendersi cura del proprio giardino. Condivide consigli pratici, elenca gli errori più comuni. Molto bene. Ah, guardate, Andrea esprime il suo nervosismo e la sua inesperienza raccontando di aver già fatto morire diverse piante in passato. Quindi ha colto perfettamente la mia richiesta. Generiamo quindi lo script. Ci vorrà qualche istante. Ed eccolo qui. Mi ricarica sempre la pagina, mi sembra. Eccolo qua. Ed ecco qua il nostro script. Francesca, ciao a tutti e benvenuti a il tuo primo giardino. Oggi parleremo dell'importanza di prendersi cura del nostro giardino. E ancora, ciao Francesca, ciao a tutti. Devo ammettere che sono un po' nervoso. Ho già fatto morire diverse piante in passato. Cioè, ma questa roba qua è una bomba. Ma io dico, ma questa cosa è fantastica. Che già anche senza farlo leggere dall'intelligenza artificiale diventa uno script molto carino per da leggere all'interno di un podcast. Ma naturalmente noi vogliamo farlo leggere all'intelligenza artificiale. E quindi aggiungiamo eventualmente una musichetta di intro che ci richiede dei crediti e poi vediamo i costi dell'applicazione. Dai, andiamo con questo Crystal Logo. Poi mettiamo una musichetta di background. Altri crediti. Dai, mi piace. Questa Pluck Loop. E poi mettiamo un outro. Che potrebbe essere di nuovo Crystal Logo. Così almeno la consideriamo la nostra tipo sigla di riferimento. Abbiamo indicato il volume della musica di sottofondo. Clicchiamo quindi su Next. E qui andiamo a scegliere le voci dei nostri host. Ciao. Mi chiamo Carla. Leggerò qualsiasi testo che digiterai qui. Ciao. Mi chiamo Ciao. Mi chiamo Bianca. E posso leggerti qualsiasi testo tu mi scrivi. Grazie all'apprendimento automatico. Queste voci sono chiare. Consapevole del suo patrimonio. Bè, Giulia è orribile. Consapevole del suo. Anche Marti. Amara. La tecnologia di machine learning sulla cloud consente all'app di Proviamone ancora un paio. La tecnologia di No. Elsa. Complay. Crea voci fuori campo realistiche utilizzando le voci dal suono più naturale. Isabella. Complay. Crea voci fuori campo realistiche. Quale scegliamo? Forse Bianca mi piaceva. Ciao. Mi chiamo Bianca. Grazie all'apprendimento automatico. Questa bianca voglio. Ci sono due bianca. Scegliamo Bianca come voce di Francesca. E ora andiamo a scegliere la voce di Andrea. Ciao. Mi chiamo Giorgio. Oh, che voce bassa. Mi piace. Vediamo Simone. La tecnologia di Orribile. La tecnologia di Orribile. La tecnologia di Machine Learning La tecnologia di Machine Learning sulla cloud. Eccolo, eccolo. Dai. Mattia mi piace. Mattia. Mettiamolo. Ed ecco fatto che abbiamo selezionato le nostre voci. Non ci resta che generare il nostro episodio. Richiederà nove crediti. Siamo fortunati perché ne avevamo esattamente nove. Generiamo l'audio. Ed ecco qua che in qualche istante il nostro audio sarà generato. Ci dice anche quanto tempo ci vorrà. Circa nove minuti. Quindi ci vediamo decisamente tra nove minuti. Ed ecco il nostro episodio. Secondo me ci ha messo qualcosina in meno di nove minuti. E ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. Riascoltiamolo quindi. Introduzione. Ciao a tutti e benvenuti al tuo primo giardino. Oggi parleremo dell'importanza di prendersi cura del nostro giardino e dei primi passi per trasformarlo in un'oasi verde. Sono Francesca. E con me c'è Andrea. Ciao Francesca. Ciao a tutti. Devo ammettere che sono un po' nervoso. Ho già fatto morire diverse piante in passato. Non preoccuparti Andrea. È normale all'inizio. Beh vi dirò. Vi dirò. Secondo me non è male. Non è male. Qualità delle voci artificiali. Io gli do un 7 su 10. Anche 7 e mezzo. Ci sono strumenti molto più performanti. Tipo i Leven Labs. Mi viene in mente. Che però non hanno tutta questa struttura. Per generare automaticamente dei contenuti. Quindi devo dirvi che per un progetto. Per alcuni aspetti di un progetto. Magari per un side project. Che noi vogliamo realizzare con facilità. Io penso che potrebbe essere. Molto molto interessante. Cliccando poi sui vari link. Noi possiamo pubblicarli. Quindi sulle varie. Sulle varie piattaforme. Possiamo pubblicare questi file. Naturalmente va da sé. Che il file lo possiamo anche scaricare. Per caricarlo manualmente. Su qualsiasi piattaforma desideriamo. Vediamo i prezzi. Vediamo quanto risparmiamo. Eccoli qua. Allora io vi dico subito che. Secondo me il primo livello. È quasi inutile. Cioè io non lo valuterei neanche. 8 dollari al mese o 49 lifetime per sempre. Però secondo me ci si fa davvero poco. Perché con 15 crediti non ci facciamo molto. Insomma facciamo una puntata. Due puntate al mese. Io penso che sia molto poco. Secondo me la valutazione inizia a diventare questa. Quindi abbiamo i 60 crediti al mese con 40 dollari al mese. Oppure 109 dollari per sempre. Ripeto è il punto che noi dobbiamo avere in mente. È che è per sempre questo pagamento. Quindi io investo questi 109 dollari. E poi io l'applicazione la posso usare per sempre. Oppure ancora questo è un altro di quei casi in cui io mi sento di suggerire di valutare il terzo livello. Perché è vero che è una bella cifra. Però è anche vero che in questa maniera noi abbiamo i 120 crediti al mese. Quindi mi sentirei di dire che se vogliamo attivare un progetto che abbia comunque una certa frequenza. Probabilmente vale la pena di attivare quest'ultimo livello. Nulla ci vieta di attivarli magari poco per volta. Partiamo dal primo livello. Facciamo qualche prova. Poi attiviamo anche gli altri. Oddio le prove le possiamo fare tranquillamente anche con la trial gratuita di 7 giorni. Eventualmente. Ad ogni modo direi che questo è un bello strumentino se vogliamo investire. nella generazione automatizzata non solo di podcast ma anche di audiolibri e di tutto ciò che ha a che fare con l'audio. E invece prendete molti appuntamenti? Fate molte videoconferenze? Beh allora mymeet.io è uno strumento che mette insieme sostanzialmente Google Meet, Zoom, Skype con strumenti per prendere gli appuntamenti come Calendly. Devo dirvi che non esistono oggi molti, almeno io non ne conosco strumenti con pagamento lifetime che fanno questa cosa e che la fanno bene come mi pare farla a mymeet appunto io dagli esperimenti che ho fatto in questa settimana. Se esistono segnalatemele pure nei commenti. Ma questo è uno strumento davvero molto completo e molto interessante nei suoi costi. Tutto quello che dobbiamo fare è selezionare le tipologie di appuntamenti che vogliamo offrire alle persone indicare quali sono gli orari in cui noi siamo disponibili. Naturalmente poi questo strumento si integra con il nostro calendario in modo da non dare disponibilità quando noi siamo già occupati e quindi mandare alle persone il link per prenotarsi direttamente il loro appuntamento. Vi faccio vedere cosa vedranno le persone che potranno prenotare l'appuntamento. Eccolo qui, vedete? In questo caso, ad esempio, loro sanno già che io sono disponibile il 27 e che sono disponibile in questi orari. E così ancora il 28. Ipotizziamo, ad esempio, che abbiate dei clienti o che vogliate fare dei meeting per promuovere delle attività o dei servizi. Vedete che in questo modo è tutto automatizzato. Le persone, dobbiamo indicare un orario, si prenderanno automaticamente l'appuntamento che naturalmente poi voi vi troverete nel vostro calendario di riferimento, sia esso Google Calendar o qualsiasi altro calendario. Qui inseriranno i loro dati e quindi prenoteranno l'appuntamento. L'altra cosa che fa in automatico e molto bene MyMeet è la videoconferenza vera e propria. Adesso, chiaramente, le videoconferenze saranno collegate agli appuntamenti che prenderanno le persone che vedrete qui in Bookings, tutti gli appuntamenti programmati. Ma io creo una videoconferenza al volo, perché naturalmente possiamo crearla anche indipendentemente dagli appuntamenti, indichiamo la lingua italiana, gli chiediamo di generare il riassunto con l'intelligenza artificiale e quindi avviamo la conferenza. Selezioniamo nelle impostazioni la nostra fotocamera di riferimento, quella che stiamo utilizzando, eventualmente la qualità del video. Facciamo un bel full HD, dai. Ah, in questo caso sto usando ancora la versione di prova. Facciamo l'HD allora e quindi il microfono, naturalmente. E ecco qua. Guardate, la nostra videoconferenza funziona molto bene. Abbiamo tutto quello che c'è in Google Meet. Vedete, possiamo condividere lo schermo. Possiamo chattare, possiamo registrare la chiamata. Possiamo mandare il link, ci basta cliccare e sarà copiato. Oppure possiamo condividere il link, vedete, in questa maniera. Direi molto, 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 molto carino. Funziona molto, molto bene questa applicazione. Chiudiamola, chiudiamo il nostro meeting. Ed eccoci di nuovo nell'interfaccia principale di mymeet.io. Molto, molto difficile, vi dicevo, trovare questi servizi in offerta lifetime. E infatti andiamo a vedere i prezzi. Prezzi, eccoli qua. In questo caso, se in precedenza per gli altri a volte vi ho detto valutiamo magari livelli un po' superiori, devo dirvi che in questo caso, secondo me, non ha molto senso valutare livelli ulteriori rispetto a quello base, a meno che non abbiate delle esigenze molto specifiche. In questo caso parliamo di 20 dollari al mese che voi ammortizzate con un 49 lifetime. E con il 49 lifetime avete sostanzialmente tutto quello che vi serve. Avete un limite di 120 minuti del riassunto dell'intelligenza artificiale. Magari quello potrebbe essere il motivo per valutare dei livelli superiori. e avete la qualità massima in HD. Però stiamo parlando di una videochiamata, non di una registrazione. Quindi hai voglia, direi. Eventualmente, salendo di livello, parliamo di 30 dollari al mese. E qui il tier diventa di 129 dollari. E qui abbiamo 540 minuti di intelligenza artificiale. Per avere le chiamate in full HD, quindi ulteriore ancora rispetto all'HD, allora stiamo parlando di 269 dollari lifetime. Che è un prezzo, secondo me, assolutamente ragionevole per quello che offre, soprattutto considerando che si paga una volta sola e poi si ha per sempre. Però vi dico la verità, io non lo spenderei. Io credo che mi fermerei al primo livello. Io in questo caso prenderei, anzi, prenderò il livello da 49 dollari. Questo qui. E abbiamo tutto quello che ci serve, sostanzialmente. E questo è tutto. Questi erano i cinque tool in offerta in questo momento. Io vi suggerisco di valutarli, perché davvero il modello, il pricing è molto, molto interessante. Diciamoci la verità, questi abbonamenti sono un casino da gestire, perché ormai c'è un abbonamento per ogni cosa possibile e immaginabile. E allora forse avere la possibilità di utilizzare alcuni di questi strumenti, che li paghiamo una volta e ce li abbiamo come una volta, come si faceva un tempo, beh, non è male come opzione, come possibilità. Vi ricordo che trovate tutti i link per le informazioni nella descrizione di questo video e vi chiedo di raccontarmi nei commenti se avete provato alcuni di questi strumenti. Anche se ci sono dei problemi, mi raccomando, indicatele nei commenti, perché sapete, il mio scopo non è tanto che voi acquistiate questi strumenti, ma è darvene una dimostrazione. E insomma, se abbiamo provato qualcuno di questi e qualcosa non ha funzionato bene, dirlo come se fosse una recensione agli altri utenti sicuramente aggiunge valore a questo video. A maggior ragione, se avete provato questi strumenti, scrivete una bella recensione nei commenti, così diamo più valore a chi guarderà il video dopo di voi. Io vi super ringrazio per avere visto questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!